Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Messia. Allora ragazzi, io purtroppo sono sconcertato, molto scorcentato, tra la non-convocazione di pellegrini stasera contro la Sampdoria. Si dice che è in direzione a Genova. Io penso che si poteva vendere benissimo un Alexandro, si poteva vendere benissimo un Douglas Costa, si poteva vendere benissimo un Organi, ma soprattutto si poteva vendere ben un Desciglio, ma purtroppo si poteva anche vendere un Dybala per finanziare il mercato, si poteva vendere anche un Ramsey, eccetera, eccetera. Io penso che se pellegrini veramente dovrebbe essere ceduto al Genova, io penso che ormai siamo arrivati alla follia più totale di una società, e ripeto, incompetente, che non sa che pesci prendere, che pesci pigliare, e continua, continua, nonostante l'anno scorso, dove si sono fatti disastri su disastri nel mercato, si continua sempre sulla stessa linea, dando la possibilità a questo direttore sportivo, che non ci capisce nulla, Vende i giocatori che non deve dare via, perché pellegrini è un giovane di grande prospetto, ed è fortissimo, purtroppo si continua sempre nella stessa linea, di fare le puttanate. Per poi, per far che cosa? Io non me lo augo. Per prendere un Chiesa? Per prendere un Girou? Per dare due milioni in più alla Roma? Per far arrivare subito Zecco? Per poi quei due milioni e girarli al Napoli? Ragazzi, qua veramente stiamo sempre arrivando sempre nel più ridicolo. Ridicolo. Caro Paratici, io non te lo dico più, ma non mi cazzo neanche ragazzi, perché ormai solo gli aziendialisti difendono Paratici. Caro Paratici, se hai veramente un bricio di dignità, ma non ce l'hai, perché non hai neanche i soldi per comprarti la dignità, e questo lo ripeterò fino alla morte, finché questo personaggio non andrà via dalla Juventus, oppure lo cacceranno al 6 ottobre, quando ci sarà il CDA della Juventus. Se hai una dignità, dai le dimissioni e vattene! Vattene! Noi non le possiamo più! Non ne possiamo più! Stai facendo puttanate disastri su disastri ragazzi, adesso siccome hanno ripianato il debito di 80 milioni, quanti cazzo sono tramite gli azionisti, i soldi ci sono, però se mi spendi i soldi e mi vedi un Pellegrini che secondo me deve restare, perché Pellegrini deve dimostrare il suo valore, non deve essere mandato via, perché? Perché devi rimegliare le puttanate che hai combinato! E questo è il problema di questa società! E questo è veramente il problema! Agnelli! Vendi la società! A chi ha veramente passione, ma soprattutto di vincere, sia in Italia ma soprattutto in Europa! Tu purtroppo questa passione non ce l'hai più, perché sei purtroppo attaccato ai soldi, alle sponsorizzazioni e alle partnership! Hai rotto il cazzo! E a me che fai tanto il parla parla ad andare a dire dopo l'eliminazione con Lione, che arriveranno giocatori da Juve, ma soprattutto la Champions non sarà più un sogno, ma sarà il primo obiettivo! E se questa qua sarà la rosa che secondo me, ad oggi, attualmente, secondo me è una rosa da metà classifica, da metà classifica, eh? Noi? Con questa rosa, la Champions, sarà il primo obiettivo? Caro Agnelli, caro Paratici, ma soprattutto cari tifosi aziendalisti, Se questa qua sarà la rosa attuale per incominciare l'anno in campionato, ma soprattutto in Champions League, noi ragazzi con sta rosa non andremo da nessuna parte. Faremo e continueremo a fare, dopo il post Sarri, ulteriori figure di merda! Noi tifosi ci meritiamo questo, grazie a una società incompetente, ridicola e mediocre. E niente ragazzi, io vi dico solo una cosa, che se dovesse arrivare un Chiesa, un Giroux e altri giocatori, che guarda, ragazzi, io a dire Silone mi sento male, da tifoso mi sento male, mi sento male perché io, io critico la squadra quando devo criticarla, critico la società quando devo criticarla. Elogio la società quando devo elogiarla, elogio la squadra quando devo elogiarla. Ma veramente ragazzi qua, e chiudo il video, siamo arrivati veramente al limite della sopportazione dinnanzi a una società, della squadra, ma soprattutto di noi tifosi, che vivono grazie ai soldi che spendiamo noi tifosi per entrare allo stadio, per comprare i gadget, le magliette, andare al museum, eccetera, eccetera. Noi purtroppo ci meritiamo queste figure di merda, grazie purtroppo a questo presidente, che ripeto, sarà un bravo imprenditore, ma di calcio non ci capisce un cazzo, ma soprattutto a questo personaggio di nome paratici, che purtroppo con i soldi che gli danno, continuo a fare ragazzi puttanate, puttanate, disastri sui disastri. E noi, e vi faccio una domanda, poi voglio che mi rispondete, ma noi tifosi della Juventus, che paghiamo Skype per vedere le partite, che andiamo a comprare le magliette, giustamente, della nostra squadra del cuore, andiamo a comprare i gadget, mascherine, cappellini, sciarpe, andiamo a visitare il museo, andiamo a... spendiamo anche i soldi per andare a vedere la Juventus Woman, che secondo me la Juventus Woman in questo momento merita di più della squadra maschile. Noi tifosi, e rispondetemi a questa domanda, noi tifosi ci meritiamo tutto questo, grazie a questa società assente, ditemi la vostra, mostro per tutto e chiudo il video. Purtroppo questo è il terzo anno ragazzi dove il signor Cristiano Ronaldo, il fenomeno, perché di fenomeno ce n'è solo uno, il signor Cristiano Ronaldo per il terzo anno di fila ragazzi, purtroppo è stato e sarà preso per il culo, per il terzo anno di fila, dinanzi a questa società, perché un Ronaldo che chiede a questa società, e io sono tranquillo ragazzi, chiede un Benzema, giustamente, per provare a vincerci la Champions League, ci hanno provato? Dicono di sì, poi c'è gente che dice di no, va bene. La società gli ha proposto Suarez questa possibilità di prendere a zero, che Cristiano Ronaldo ha detto di sì, perché, testuale parola di Ronaldo, Suarez è uno dei più grandi numeri nove, insieme a Benzema e Lewandowski, al mondo. Purtroppo, anche su Razzuarez, Paratici ha fatto la puttanata, dopo aver stilato tutto il contratto, dopo aver preso con gli agenti un accordo sui soldi che dovevano andare gli agenti. C'è anche questa cosa con il Barcellona, e dopo due settimane che cosa è successo, si è accorto, è un dirigente sportivo, ma soprattutto una società come la Juventus, non può fare una figura di merda, venendo a sapere dopo che il giocatore era extra comunitario, ragazzi. Questo è stato l'errore più grande che una società, dicesi, società gloriosa come la Juventus, purtroppo, ha fatto. Quindi, ragazzi, io non so più cosa dire, io, guardate, io la partita stasera non la guardavo neanche, perché veramente, ragazzi, io non ho più voglia. Poi magari arriveranno, arriverà Pogba, ragazzi, Alaba, un Marcello, arriverà Zeko, o Suarez, ragazzi, io ci spero ancora, perché, ragazzi, io, ripeto, io sono un sognatore e a me piace sognare, anche perché sull'attività o Suarez c'è, è esistita, esiste tuttora. Poi, non lo prendono, eh? Ripeto, siamo dinanzi a un direttore sportivo incompetente che non ha le palle, le palle di comprare giocatori top da Juve, ma che, purtroppo, ha solo le pallettine piccole, così, di andare a prendere giocatori di bassa e medio rango. Questo, purtroppo, è paratici. E se veramente, ragazzi, arriva a chiesa, io ve lo dico subito, io chiudo il canale, chiudo, no, anzi, non chiudo il canale, io aprirò un canale, questo canale lo chiamerò, o parlerò di WWE, che sono un appassionato, o parlerò di Ippica, o parlerò di NBA, che a me piace, eh, potrei parlare anche della Juventus Woman, che secondo me merita, merita di più, della scuola maschile, però non è colpa della scuola maschile, ma è colpa di questa società. E viete, ragazzi, ci sono tanti argomenti, parliamo di altre cose, ragazzi, che si può parlare, perché io, veramente, io non mi svenerò più, e non mi devo più incazzare per questa società, perché a me, questa società, non mi paga, non mi dà nulla, e con i nostri soldi, eh, loro, purtroppo, fanno quello che vogliono, perché, e chiudo il video, ragazzi, e io vi saluto, perché, alla società, interessa solo, guadagnare, incassare soldi, ma, nell'ambito sportivo, purtroppo, ragazzi, non gliene frega, una beata, minchia. Ragazzi, mettete like, commentate, faccia sapere la vostra, condividete il video, iscrizione a tutta la Juvengers Crew, Luca Totti, Gianni Bianco, Spaccacalcio Pirata, Atric Boys, Pix, Bensìa Bianconero, Juventino Mascherato, Frank Asso, Eliochi 65, vi raccomando, ragazzi, supportate questa crew, perché ce ne saranno delle belle, e a breve, ragazzi, inizierà anche la mia rubrica, del gaming, e, veramente, ragazzi, ce ne saranno delle belle, io vi auguro una buona serata, una buona partita, anche se io non la guarderò, ma forse la guarderò, però, tanto, è sempre la stessa storia, è sempre la stessa musica, quindi, ragazzi, io vi saluto, ragazzi, fino alla fine, forza Juventus, e noi ci vediamo alla prossima.